Ehi Fere, sai che cosa dobbiamo fare oggi? Dimmi, dimmi! Dobbiamo testare un altro servizio importantissimo per la città di Los Santos Ok Dobbiamo testare quanto diciamo è efficace la pulizia su GTA V Dopo aver testato l'ambulanza Davvero difficile Io ho davvero paura, però dobbiamo farlo Qualcuno lo deve fare Fere Ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E sono Fere, che si chiama GTA V E siamo qui in un altro episodio di GTA V Prontissimi a testare un altro servizio di Los Santos Perché dopo l'ambulanza oggi vedremo anche come si comporterà la pulizia Hai visto dove siamo Fere? Sì, sì Davanti alla stazione di pulizia Sai perché? Perché voglio vedere che cosa succede se io chiamo un rapinatore Che ti ruba i soldi proprio davanti alla stazione di pulizia Cioè, dovrebbero seguirlo, sei d'accordo? Su questo siamo d'accordo, no? Per forza, per forza Cioè, io capisco in mezzo alla città è difficile vedere tutto, controllare tutto per tutta la città Perché è grande Ma qua davanti, no Qui non sarebbe accettabile No, anche perché c'è da dire che la stazione dello sceriffo di Los Santos sono molto efficienti Tu prova a combinare qualcosa nella città e ce li hai subito attaccati Esatto Perché appunto c'è la stazione qua Quindi, teoricamente dovrebbero fare la stessa cosa Dovrebbero vederlo Lamar chiama il rapinatore Mandiamolo su Fere, Niki E vediamo che cosa succede Ok, allontanati un po' Allontanati un po' Fere, io ho una stellina di polizia Perché io comunque ho chiesto di fare questa brutta cosa Guardalo, guardalo, guardalo davanti a te, Fere Davanti a te Lo vedi? Eh, ma cattivissimo Ok, ti ha steso È caduto anche lui È caduto anche lui Si è preso i soldi E adesso sta iniziando a scappare A 5200 dollari per la precisione Perché me lo dice Oh, ma scusa un attimo Che gli spacco la faccia Fere, non devi spaccargli la faccia tu Eh no, scusa, Fere, 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 Fere È giusto così Polizia Allora Non solo Non sono usciti fuori Dopo che qualcuno Li ha rapinato davanti alla faccia Ma li hanno pure fatto rubare Il loro stesso elicottero Senza battere ciglio Io non ci volevo credere Io Io sono stata zitta un attimo Perché ho detto Dai, è ovvio che sto vedendo un bug Lui adesso continua a correre Per la campagna E finisce così Vero che andrà in questo modo E invece E invece no Allora Secondo test Perché ne ho preparato due Torna qui Di nuovo davanti alla stazione polizia Mi devi 5200 dollari Chiamo un altro rapinatore Ma chiamo anche la polizia Quindi Ok Il rapinatore ruba Mi devi far rapinare di nuovo Davanti agli occhi Di due poliziotti Ok Te Per forza lo sparano Per forza Secondo te devi chiamare Prima la polizia O prima il rapinatore Secondo me la polizia È un po' più lenta ad arrivare Esatto Il rapinatore ho visto che è stato Sbucato da sottoterra Ci sono soldi Dove arrivo Andiamo rubo Cioè da sottoterra Da un tombino Secondo me è riuscito fuori Anche secondo me No non posso per altri 8 minuti Di farlo tu Chiamala Ma chiamala Ma chiamala No 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 La polizia è così derivata Dai 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 Ce la faccio ce la faccio Ce la fai? Se spucano lo stesso tombino Ok Ok chiamo il rapinatore Vai Io mi sono un po' allontanato Vai Chiamato 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 Ok La polizia è qua Sta arrivando il rapinatore Sì Allora mi ha detto che sta arrivando Mi dice proprio Arriverà Ecco Ecco Sta arrivando lì dietro Lì dietro Lì dietro Lì dietro Ma da dove? Da dietro Ok mi ha rubato La polizia aspetta L'ha visto Ha visto qualcosa? L'ha visto secondo me Dici? L'ha visto Aspetta 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 Hanno riacceso le sirene E loro le avevano spente Si sono che incastrati un po' Vediamo Ti prego Ti prego Dai seguitelo Lo sto inseguendo Si Ma aspetta Si 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 L'hanno ucciso Oh mio dio Il rapinatore che hai mandato per derubare Steph il magnifico è stato ucciso Si Ha funzionato Ha funzionato Sono molto soddisfatto di questo tentativo Finalmente si sono resi utili anche loro E adesso andiamo avanti con i test ma si rende tutto più complicato per la polizia Ok Ferre adesso dobbiamo provare una cosa un po' più complessa per la polizia Però prima di quello volevo testare un attimo una curiosità Questa qua è chiaramente la macchina di un poliziotto Perché è parcheggiata nei parcheggi della stazione della polizia E la macchina di un poliziotto Ok volevo vedere questo Ti da stelle di polizia se la rubi Si Due stelle di polizia Anche se non è una macchina di un poliziotto diciamo ufficiale Quindi non era una macchina di un poliziotto ufficiale Anche se non fosse la macchina di un poliziotto e comunque parcheggiata Lì davanti Esattamente Quelle lì davanti ovviamente Però io l'ho rubata per un altro motivo Perché dobbiamo vedere se noi salendo su un treno Veniamo ancora inseguiti dalla polizia Quindi pronte a salire al volo No non ce la posso fare 3, 2, 1 Qui Ferre Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Beata Beata vorrei Poter dire la stessa cosa Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok 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 Mi stanno sparando colpi Mi stanno sparando colpi Però Anche a me hanno sparato due cose Ce l'ho fatta venire dove sono io Cosa ti ha preso Stef Un lampione Non l'avevo visto Ferre Mi potevi avvisare però Io praticamente ero qua Mannaggia Io sono riuscita a stare nella parte più bassa Se riuscirei a venire Mi vedrai Allora mi giro per vedere dove Stef In quel momento ho fatto un lampione che ti prende E non ci volevo vedere Allora Guarda un pochettino All'inizio ci hanno sparato perché erano vicini Ed era una portata Adesso però Se noi guardiamo la mappa Loro ci stanno cercando Totalmente a caso Sì ma le stelline stanno lampeggiando Stanno lampeggiando Sì sì ma non solo lampeggiano Ferre Stanno proprio andando in direzioni opposte A quelle in cui dovrebbero andare Come se non avessero capito dove siamo finiti Esatto E se noi però Scappati Ok Io risulto scappata Pure tu Ok allora Però se noi riprovochiamo la polizia In qualche modo Ok aspetta Facciamo esplodere qualcosa Tre stelle di polizia Di nuovo provocate Mentre stavamo sopra il treno Vediamo che cosa succede Cioè teoricamente Se il gioco funziona In modo normale Quando hai tre stelle Arriva l'elicottero L'elicottero ti sta Attaccato tutto il tempo Ti vede E di conseguenza Non perdi più la polizia Non riesce a scappare Infatti Mi ha appena avvistato E sono tornato a tre stelle di polizia Normali Adesso vediamo Però che cosa succede Eh si sono molto curiosa Come va avanti la situazione Trovano un punto dove intercettare il treno E cercano di spararci O continuano Eh non lo so A girare a caso per le strade Secondo me continueranno a girare a caso Non penso che loro Anche secondo me Prevedano il fatto che tu stai su un treno E quindi ti debbano inseguire su un qualcosa in movimento Però voglio vedere Già una cosa Ok dall'elicottero provano a spararci Perfetto Che era una cosa che volevo vedere E quindi noi l'elicottero Lo buttiamo giù Per divertimento Allora Arrivederci Arrivederci Perfetto Bene così E adesso vediamo un pochettino Sai che mi stavano sparando Da una montagna Fede? Ma davvero? Si sono fermate due pattuglie di polizia In una montagna Guarda davanti a noi Guarda davanti a noi alla sinistra Dall'altra parte La vedi? Sono lì sopra No non le vedo io da qui Perché c'è una pioggia incredibile Non vedo niente Aspetta che metto un po' Loro si fermano Un po' Ovunque E iniziano a spararti dei colpi Interessante Quindi comunque cercano di raggiungerli Yes Soprattutto Allora Non è che sono totalmente indifferenti Quando sei a due stelle Oh mio dio Cosa non sta succedendo Cosa non sta succedendo davanti a noi Hanno cercato di bloccare il treno Il treno Il treno ha colpito Ha colpito la SWOT Più una macchina della polizia Mi è passato vicino Guarda Guarda lì Ma che succede? Oh mio dio Che succede? Guarda lì Polizia versus treno Chi vincerà? Oh mio dio Guarda ci stanno affiancando e sparando Andate bene C'è un elicottero dietro Sono completamente soddisfatto Hanno provato a bloccare il treno Continuano a spararmi anche le macchine stesse Quindi comunque non si fanno fregare dal treno Quando sono più di due stelle Se sono due stelle le seminate Se sono tre o quattro Iniziano a darvi la caccia per sempre Anche se state sopra il treno Tipo adesso guardate questa macchina Sa che siamo qui Si ferma E prova a spararmi dei colpi Guardate 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 avete visto? Mi ha sparato dei colpi Quindi la polizia non si fa fregare del tutto Quando stai sopra il treno Il che è interessante Vai Dobbiamo preparare una cosa davvero folle Lo so Vogliamo provare A far fare una rissa Tra polizia e gang Quindi Eh Non sarà semplice secondo me Perché le gang Non appena le ferroviarie iniziano subito a spararti Quindi Nel tempo in cui arriva la polizia Potremmo già essere morti Eccoli 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 Esatto Eccoli qui Allora Fere Allora Io nel mentre chiamo la polizia Però Ok vai Chiamala Ti prego di andare con calma Lì davanti a loro Allora vado piano piano Sono pericolosi Gli hai chiamati? Eh no ancora no Ci vuole un attimo Lo sai che è il telefono Perché appena ti avvicini questi ti sparano eh Polizia Ok Ok Chiamati Vai Inizia ad avvicinarmi piano 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 Ok Calma Ok Vediamo Allora questi si nervosiscono anche se corri Salve Salve Oh sono tranquilli Vedi Forse mi hanno preso per una di loro Io te l'ho detto Che guarda non mi devi mandare in queste cose Sicuramente Fere Allora gli faccio Oh mamma mia ma sei pazzo? Gli ho fatto l'aria minacciosa e ha tirato fuori la pistola dalla tasca Questa è patta Fere allontanati un po' per favore Non provocarlo Non provocarlo Fere no Così Così ti spara No non mi spara Fere ti sta sparando Ti sta sparando ufficialmente Fere guarda sentono già Aspetta 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 Provocali Provocali adesso Provocali adesso Ok Ok L'ho buttato giù Anche io Anche io Ce l'hanno la pistola questi Fere Sì 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 È come se ce l'hanno Ma figuriamoci Polizia Ok la polizia è uscita La polizia è uscita Stanno iniziando a sparare Stanno iniziando a sparare Fere Proteggeteci polizia aiuto Tu allontanati Tu allontanati Oddio hanno sparato un polizio Oddio Uno l'hanno steso Questi sono pazzi Oh mio dio L'hanno steso anche l'altro Fere Fere mi stanno Continuando a sparare Aspetta arriva altra polizia Davvero Corri 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 Sì 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 Ci hanno chiamato i rinforzi È proprio una cosa che volevo Infatti vedere È proprio una lotta A me l'hanno steso È la risa che volevo far scopiare No io sono tranquilla Non mi sta rompendo Né nella polizia né loro Quindi mi posso godere la scena In un limbo No 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 La polizia se ne sta andando Ne vedevo pure l'ontananza Che si avvicinava Allora ti spiego cosa è successo Io avendo chiamato Ah non è arrivato un'altra Aspetta 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 Shhh shh shh Vieni Steph Arriva 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 C'è un'altra volantina Sta arrivando anche un'ambulanza Nel mentre Allora non stanno facendo nulla Sono fermi per ora Ok eh Ok Sono fermi Guarda si sono arrabbiati E la polizia Sta sperando a te o a loro Fere A me Davvero Cioè ma è una stella di polizia Sì Cioè gli ho dato una spinta Mi hai visto Non gli ho dato un pugno Eh beh però Li hai fatto arrabbiare Fere Steph è successo un'altra cosa Ok È arrivato questo tipo E ha ucciso i poliziotti Quello dietro la tua macchina Non l'ho dato Questo qua Ti rendi conto Che mi ha difeso Più la gang Di questo quartiere Che la polizia stessa Ti rendi conto Di quello che è successo Steph Spera che ti abbia scelto Senti un bel like Questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao